Non sbilanciarsi mai, attenzione a Finotto ancora dentro l'area adesso, palla indietro per Vita, la palla in mezzo, Jovine, la copertura, adesso il Pergo che va in contropiede, Bardelloni ha un po' di campo, trova Bertazzoli, va Bertazzoli, altra palla dentro, Bardelloni il tiro e il gol! Gol di Bardelloni, gol di Bardelloni, gol di Bardelloni! È appena avuto un po' di spazio, Bardelloni l'ha messa. Grande azione, grande azione, hanno trovato lo spazio centrale, come dicevo prima, palla in verticale, Bardelloni controllo, giro, tiro, gol. Come si diceva prima, se la pergolettese dovesse continuare a giocare molto sull'ampiezza e cercare poi, una volta aperto l'avversario, la profondità, 99% è gol, come in questo caso.